ciao a tutti ragazzuoli oggi sono su how to survive non so nulla su questo gioco perché lo sto avviando la prima volta adesso insieme a voi so che è solamente un gioco gratuito che sta dando questa settimana su xbox la microsoft su xbox live e ve lo dico subito sarà una pipa perché l'ho detto è la prima volta che l'avvio quindi vediamo insieme come questo giochetto mettiamo ovviamente un modello normale a ora approssimativa 13 00 un sopravvissuto veramente guarda questi come stanno bella grafica ragazzi devo dire non è malacciaccia dai più o meno per essere una specie di arcade cos'è chi è questo mezzo malato qui allora ehi tu per piacere ho bisogno di un aiuto sono stato attaccato sono sfinito questa bannata isola è piena di mostri alcuni mi hanno seguito ok ne ho ucciso bastardi mi hanno morsicato morsicato ascolta so che in giro ci sono delle piante medicinali devi portarmene una dovrebbe alleviare il dolore per piacere fai veloce sto sanguinando veramente mi dispiace tanto trovo una pianta medicinale porta ad ad rep on rep come cavolo si chiama ok dove la trovo questa pianta medicinale per aprire la mappa ma che carina ok vediamo come si fa i tassi quali sono percorrere ok per aprire la mappa e controllare gli obiettivi sì ok ho capito però prima di fare vedere dove stanno le cose cos'è questo non posso solo correre ma perché che cos'era quello ah che bella trovata ora posso tornare indietro andiamo da ciccio buffo ammazza come corre poco muore subito questo brutta cosa oh grazie mille queste piante hanno un sapore di merda ah veramente ma sono ottimi antidolorifici potrebbe tornare utile anche a te ecco sperando che non ti servano eh lo spero perché se mi sei portasfiga ti ammazzo subito c'è te finisco anche se sei vivo ancora dove vai dove vai allora ehi mi chiamo anrev già lo sapevamo prima non so come sono finito qui ho un ricordo vago ma questo posto è un incubo un incubo reale so dici te vedendo un giro faccio parte di un piccolo gruppo di sopravvissuti è da circa una settimana che stiamo cercando senza successo di fuggire da queste isole ma sempre impossibile molti di noi sono morti divorati da questi dannati mostri ora l'unico che mi è rimasto è il mio amico ramon 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 gli altri sono morti e ramon è ferito e può muoversi a malapena sono andata a cercare benzina e l'ho lasciato vicino alla nostra barca per piacere trovalo di che sono ferito e non posso muovermi di qui lo troverai in una spiaggia sul lato s dell'isola va bene ascolta fa attenzione molta attenzione l'isola è piena di questi fottuti mostri ecco prendi questo bastone di servirà per sopravvivere me coglioni ci faccio tanto un bastone però che inizia ragazzi potrebbe andare bene allora dammi questo bastone come picchio ecco cosa vuoi cosa vuoi dovrebbe essere il piacere vicino alla barca però capito sta in gamba si si sto in bambissimo tranquillo ok così picchio bene sul lato west ok giusto certo essere di là usarete adesso per mirare il tuo bersaglio guardare guardare che spettacolo tieni premuto per rilasciare un colpo critico me coglioni erba medicinale questo ma che cavolo niente questo non si rompe questo neanche benissimo andiamo di mano in peggio allora colpisci le porte ah che bello rompiti grande oh bottiglia vuota basta mazza sarà troppo qui non c'è nient'altro e questo cos'è un libro che cavolo ah introduzione grazie non sai dove ti trovi e hai fame e se non presto incontrerai un sacco di zombie che vivono qui oh ma che bello per piacere resta ottimista la situazione è disperata ma niente è perduto no mica grazie alla mia guida di sopravvivenza riuscirei a distedicarti la mia guida è un sistema di addestramento che ridotte sovviene negli ambienti più estremi contiene tutto quello che ti serve per combattere gli zombie buona fortuna a presto ma che bello trovarsi queste guide in giro ricorda il combattimento a mani nuda inefficace contro questi mostri bellissimo che gli stacca la mano che taglio ragazzi è spettacolare questa cosa beh buona saversi non lo sapevo che era oh oh muori ma che bello beh ok chi è che fai vieni 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 pam oh muori è morto ok vediamo quanto oh che bello ti fa vedere tutta la mappa ok allora andiamo di quanto di qua non si può andare vero no benissimo allora questo cos'è impianto curativo oh che bello ma perchè flash ha così va bene allora ok e quindi ah niente è uno schema ok buona sapersi grazie molto gentile bastone di legno ok va bene andiamo avanti vieni vieni devi morire perché non muoiono allora vediamo quest'altra guida ragazzuoli dai sì putta ok capitolo 1 combattimento ravvicinato oh già fatto mi dispiace saliero tardi adesso alcune regole di base da tenere a mente quando affronti un mostro in un usa la levetta a destra per prendere la mira sì non ho una pistola non ho niente non ho solo un bastone mentre prendi la mira muoviti no veramente oh che bello che mira carica il colpo per aumentare i danni no veramente ma perché sempre dopo prendi i pulsanti ok per uccidere l'azione per uccidere il colpo ah che bello ma che cazzo ma che ma che cavolo oddio che taglio ragazzi dai non è malaccio però dai allora bevi ma posso bere che bello che fa mi dà la vita non mi dà un cavolo vieni ah ecco che fa muori muori oh che no ragazzi non è malaccio comunque devo dire che cos'è questa roba è gente che è morta che cos'è sembrano tipo giocatori nomi di giocatori che sono morti sembrano poi è tutto da vedere vediamo qui cosa c'è oh altri monster vieni vieni ti picchio come se non ci fosse un domani vieni qui bam bam dieci di esperienza eh cosa mi dà l'esperienza cosa c'è qui bottiglia vuota ci sono anche le scimmie ma che bello premi cos'è questo mi sono detto adesso per mirare il bersano ah no questo qua non si fa ah mi sono messo ok niente riempi beh certo come il polso è asciutto ma ci ho bevuto ma ci ho bevuto adesso beh cagare cos'altro c'è qui a proposito perché devo andare lì bene questo pure è morto qui cosa c'è niente un'altra tomba che brutta cosa ragazzi ma qua ci sono morte tante persone vieni pom no bellissima questa vieni 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 muori 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 guarda se muore ma questa è tutta gente che c'è morta qui e loro sì perché ragazzi si può giocare questo gioco è bello perché si può giocare anche in due sulla stessa console ovviamente quindi la cosa è spettacolare quando è così finalmente a non dire dopo di qualche gioco arcade per giocare più di un più di un giocatore sulla stessa console che cos'è raccolto rocchetto chi è il rocchetto mo che ci faccio con il rocchetto sento ringhiare chi è che ringhia ah ma si muori muori si ma non trovo più erba non quell'erba ragazzi è proprio l'erba curativa non la trovo più perché non vale così così stiro subito minchia cosa andrà a far banchetto oh ma quanti siete bam siete morti bravissimi mi piacere quando morite lo saprete ma questo qua si è apriato l'altra parte ok qui non c'è niente questa no vieni 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 bam bam micchia colpo finale bel colpo di grazia non c'è niente 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 spacchiamo qui la porta un'altra bottiglia vuota basta con queste bottiglie vuote dove sta quest'altro guarda dove sta intanto le sicuro poi saranno altri zombie che bello ah ma scusa lo zombie stava vabbè io rimango senza parole vai parliamo con te ehi chi sei dov'è unrep hai incontrato unrep dov'è merda che brutta notizia ecco ma se mi fa parlare se l'hanno morso non c'è più niente da fare è solo una questione di tempo ti trasformerai in un mostro anch'io sono stato morso ecco perché mi sono amputato la gamba oh da solo come coglioni la mia gamba non avevo scelta voglio andarmene vivo di qui e tu hai morsicature dai dichiarare no e hai raggiunto questo posto solo con un bastone notevole me coglioni sarebbe il nostro me coglioni ascolta se andrebbe stato morso sono sono spacciato devi aiutarmi ma anch'io posso aiutarti so come sopravvivere possiamo lavorare in squadra tu ed io no veramente e quindi ecco prendi questa e davanti a te una marea di cazzi amari ah se non vuoi morire devi usarlo dovrai usarlo capito uccidi o fatti uccidere usalo per attaccare no veramente ok quindi ok seguimi sta scendendo la notte e ho un favore da chiederti dai cos'è questa questa timidezza perché missione completata ah che bello il macete ragazzi sì ma come si come si ma qui c'è una radio scusate non mi fa prendere la radio neanche la roba che sta di qua ma ecco gli attrezzi sì erba curativa sì ma io voglio sapere perché non mi fa piare la radio la radio è una cosa che dovrebbe servire qui non mi fa andare manovello e l'avviamento eh come si sistema non si sa va bene benissimo ma te forse danno aiuto a quello zoppo eccolo dimmi cosa vuoi anzi ragazzoli io mi sa che è meglio se mi fermo perché sennò andiamo troppo per le lunghe facciamo così salviamo no riprendi no 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 missione in corso vediamo tutti i progressi non saprei andranno persi no ma perché non c'è mai un salvataggio da fare per cavoli su allora facciamo così andiamo qui ecco il piano la scorsa settimana su un'altra isola abbiamo trovato un vecchio idropolante è danneggiato ma potremmo riparare e fuggire per andare in isola in isola si possono usare le barche ma via aria ma via aria ok la missione viene a trovare benzina per l'aereo ah ok il problema è che sta avvenendo notte e devi sapere che alcune creature spaventose escono solo di notte insieme ad altri mostri queste creature sono vili e molto aggressive no veramente e quindi attaccano solo quando è buio e odiano le luci per cui potresti usarle contro di loro ti trovo la mia torcia elettrica personale per regarti al villaggio ma prima potresti accendermi il fuoco ok scorto sblocco le abilità ok questo via fatemelo vedere oh la capitolo 2 di sicuro vediamo no capitolo 3 il 2 l'ha saltato vabbè ahà durante il tuo viaggio puoi potenziare le tue abilità ah bella cosa per farlo apri il tuo avventario e vai alla schermata abilità ci sono parecchie abilità che puoi acquisire grazie all'esperienza che farei durante la tua avventura ok la prima ti consente di accendere falò ah veramente che spettacolo beh deve essere buona come carne è disinfettata anche col fuoco ragazzi ah quindi ora posso premi B e poi B no ho sbagliato ho fatto il contrario che cavolo no no questo e questo mmm ah ok questo bassone di legno percetto di ferro resistente la bottiglia di vuota ah 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 ecco salute non salute nel senso è ciù ok statistiche probabilmente c'è abilità eccolo accendo il fuoco al primo ho solamente un punto quindi ok ora possiamo accendere il fuoco quindi dove lo accendo puoi accendere un fuoco per accendere un fuoco sblocca l'abilità accendi l'abilità richiesta dall'albero e l'abilità quindi selezione usa un pezzo di selce oh e io ma non ce l'ho la selce accendimi un fuoco per prendere si ho capito ma dove la trovo la selce se non ce l'ho c'ho il rocchetto e c'ho gli attrezzi qui non c'è niente qui non c'è niente ah devo arrivare fino laggiù che palle che palle ok allora ragazzuoli io me la do è stato un piacere come sempre spero che il video vi sia piaciuto e che vi siano divertiti e vi sarei fatti anche due risate e mi raccomando commentate spolliciate e condividete ciao ciao ragazzi